Al Centro Culturale Aldomoro di Cordenonza è stata inaugurata lo scorso sabato la mostra Filius Fortunatissimus del fotografo Roberto Giovetti che sarà visitabile fino al 24 settembre con ingresso gratuito. Il progetto espositivo che nasce nell'ambito della 31esima edizione del Festival Internazionale di Musica Sacra parla ai visitatori del rapporto tra genitori e figli. Le 36 fotografie raccontano come momenti di una sequenza la quotidianità degli anziani, madre e padre dell'artista. Momenti domestici visti con gli occhi attenti e partecipi del figlio, osservati con affetto ma anche con nascosta trepidazione con la consapevolezza di chissà che la fortuna di avere ancora i genitori con sé è una fortuna. Gesti intimi e quotidiani come preparare la colazione o il pranzo assumono così un significato intenso e particolare anche agli occhi dei visitatori.